La briciola non vuole permettere alla Virtus Ciampino la fuga. Il modo per riuscirci è uno solo, vincere in casa al Circolo Stella Azzurra contro le ragazze del Visfondi. Beh, a partì il passo falso con la Virtus, che comunque non avevamo giocato anche bene, purtroppo regaliamo sempre i primi tempi e secondo me possiamo uscire molto di più. Riuscirà la squadra di bianchi a vissare il roboante 5-0 in casa dell'Ellera? Non so com'è sinceramente, spero non ha vittoria. Solo il campo potrà dircelo e potrà farci sapere se l'obiettivo promozione è realistico o no. Anche se tre partite possono sembrare poche per dare un giudizio globale sulla squadra, si sa chi ben comincia.